Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlightstube. Dopo parecchi giorni, anzi un paio di settimane, che non pubblicavo nessuna recensione librosa, mi sono detta che devo assolutamente pubblicare almeno una old review, quindi inauguro la settimana concludendo una delle serie New Adult, anzi New Adult, barri, non è stata come un Young Adult, poi è andata più verso lo New Adult, più belle mai create, che però su questo finale, diciamo che il capitolo finale è quello che mi ha convinto o meno, sto parlando di questo. Odiami come io ti amo, di Penelope Douglas, come ho detto questo libro va a concludere la serie della Fall Away Series e purtroppo tra tutti quelli che sono usciti, che ho recensito tutti quanti, infatti troverete sul canale tutte le recensioni, perché sono appunto tutte old review, questo qua, il finale è quello che mi ha convinto meno, ma perché? Perché semplicemente non era necessario, o meglio, poteva essere necessario se non si fosse andati un po' troppo nel ripetitivo per quanto riguarda certe cose. Comunque adesso vi spiego tutto, intanto mi accingo a leggervi la trama. Tatum Brent ha smesso da un pezzo di essere la ragazza che fuggiva in lacrime a causa di Jared Trent, adesso domina la pista, la velocità la fa vibrare e la folla urla il suo nome. È diventata la regina delle corse. Stare al centro dell'attenzione non è un obiettivo, eppure non riesce a fare almeno di suscitare l'interesse di chi gravita nella sua orbita. Nonostante ciò, però, sembra che i suoi amici non facciano altro che parlarle di Jared. Hai visto Jared in tv? Cosa ne pensi della sua ultima gara, Tate, quando tornerà in città? Ma Tate si rifiuta di pensarci. Sta sopravvivendo, anche se non ci avrebbe scommesso. Quando Jared tornerà a casa, si accorgerà che la Tatum che conosceva non esiste più, che a Sherbrooke Force i giochi sono cambiati ed è proprio lei a dettare le regole. A quel punto Jared rinuncerà a lei per sempre o raccoglierà la sfida cercando di riconquistare il cuore della ragazza che ama da tutta una vita. Ecco, vedete cosa già non funziona? Il punto di partenza, nel senso che Jared e Tate avevano, diciamo, non dico concluso il loro percorso, ma anche, diciamo che questo libro poteva tranquillamente essere una novella sulla loro vita dopo tutto quello che hanno passato nei precedenti, nei loro romanzi e anche comunque negli accenni dei libri con gli altri protagonisti, perché comunque loro compaiono sempre, nel bene o nel male, poco o tanto o metà tanto, compaiono comunque sempre anche negli altri romanzi, perché comunque questa serie è partita da loro. E nei loro libri, Omero mai per amore da quando ci sei tu, avevano concluso questo tira in molla, questo ferirsi, farsi del male, quasi appunto volontariamente l'uno all'altro. E quindi l'ho trovato un po' ripetitiva questa cosa, il fatto che Jared ancora si senta spaisato, parta e la lascia per trovare se stesso e nel mentre Tate appunto cerca di trovare la sua identità. Va bene, ci può stare, però non l'ho trovato necessario sinceramente. Sinceramente avrei preferito più che altro, ecco, una piccola novella con tutti i protagonisti che hanno, diciamo, trovato il loro equilibrio. Invece, ah, qua, mi sembra un po' un tentativo di replicare Mai per amore da quando ci sei tu, in cui i due si punzecchiano, si stuzzicano e si fanno appunto quasi del male volontariamente a vicenda. E questa è una cosa che mi ha lasciato abbastanza interdetta. Non voglio dire che è un brutto libro, anche perché comunque è scritto bene, perché la Penelope Douglas scrive sempre benissimo. È stata appunto questa scelta narrativa essere, secondo me, non dico sbagliata, ma inadatta a un ultimo libro. Se tu mi fai un ultimo libro, ma mi hai già concluso comunque il percorso nei precedenti, non mi fai un passo avanti e cinque indietro. Piuttosto mi fai vedere i protagonisti nella nuova realtà. Questo è un tentativo di farlo, però ricalcando ancora l'onda del primo libro. E questo, secondo me, è stata una scelta narrativa un po' azzardata e che non ha funzionato al cento per cento, a mio parere. A mio parere, a mio parere, a mio parere, mi è venuta questa e aperta, non so come mai. Quindi appunto non è completamente da buttare via, perché con tre stelle e mezzo io le do tutte. Però trovo che sia un po' un tentativo di fare una similcopia di Mai per Amore, da quando ci sei tu, ambientato molti anni, molti anni dopo. Naturalmente poi il detto fine, vabbè, c'è, non sto neanche a dirvelo. Quindi troviamo tutti i personaggi, tutti che hanno trovato un loro equilibrio dopo aver passato le pene dell'inferno nei loro libri. Questi due no. Questi due invece devono rompere i coglioni, scusatemi, in un altro libro, fuori delle loro pippe mentali dopo anni che stanno insieme. No, mi dispiace, ma non era quello che volevo. Io volevo vedere loro, trovare un loro equilibrio, vedere che si affacciano al futuro, ma se non così. Non di nuovo tira e molla, tira e molla e facciamoci del male, però alla fine ti amo. Cioè, no, è questo che non funziona. Perché per il resto è un libro scritto bene ed è un finale che secondo me va letto. Merita di essere letto, in parte, però non mi ha convinta pieno. Cioè, non voglio sputarci merda, perché sputo merda su altra merdosità. E sapete benissimo a cosa mi riferisco. Questo non si merita una recensione incazzosa, ecco, per dire, per dire. Non si merita, semplicemente una recensione obiettiva. È un finale decente, ma secondo me, conoscendo la penale Lope Douglas, secondo me, poteva fare molto, molto, molto meglio. Quindi questo qui è quello a cui do la valutazione più bassa tra tutti, ovvero tre stelle e mezzo. Non mi sento di dare di più perché, purtroppo, mi sono un po' calute le braccia nel vedere questi due che ancora fanno la tiritera del tira e molla. No, poteva creare qualcos'altro. Poteva fare qualunque altra cosa tranne questo. Tranne questo, assolutamente. Io so che c'era anche in programma una nuova serie con i figli dei protagonisti. E vi dirò la verità, non mi farebbe schifo leggerla. Avrei preferito, ecco, piuttosto una novella sui figli. Vi dirò la verità, piuttosto che questo. Io spero, è un progetto che è già in ballo da un po'. Io non so poi se effettivamente la Penelope ci sta lavorando o se si è già lavorato ma qui in Italia non è ancora arrivata. Non le so queste cose, vi dirò la verità. Però sapevo che ce l'aveva in testa e lo voleva fare. E io spero ovviamente che non lo lasci lì a morire questo progetto. O se ha già visto la luce in lingua, in patria, la Newton non se lo faccia scappare. Però in genere la Douglas, la Newton la pubblica, la pubblica sempre. Quindi appunto, come dicevo, è un finale che poteva dare di più e conoscendo la Douglas, secondo me, poteva fare molto molto meglio. Bene, ora come sempre passiamo al giochino dell'estrattino. Che ho già cercato, ho qua il segnetto. Perché sapete che non voglio farvi troppi spoiler, ma voglio anche darvi abbastanza l'idea per poter prendere il romanzo, anche se forse vi ho già scoraggiato con la mia recensione. Ma no, come dico sempre, non fatevi influenzare dal mio giudizio. Perché questa è la mia personalissima opinione. Ma magari a voi invece questo romanzo farà impazzire. Se avete amato gli altri vi farà impazzire anche questo. Questa è la mia personalissima opinione. Non fatevi influenzare dal mio giudizio, assolutamente no. Voi comunque leggetevelo, fatevi, anzi fatevi la vostra opinione e fatemela sapere nei commenti qua sotto. Perché così ci possiamo confrontare in maniera educata, civile e rispettosa. Quindi mi raccomando, non fatevi influenzare dal mio giudizio. Perché la mia parola non è legge. Non sono un pretoriano che impone tutto quanto, assolutamente no. Quindi adesso comunque, dopo questo discorso filosofico, mando le ciance e mi accingo a leggervi questo estrattino che spero comunque vi incuriosisca un po'. Ero consapevole che vendere la casa fosse la cosa migliore da fare. Sebbene mi sarebbe mancata la vicinanza con i miei amici e non riuscissi nemmeno a pensare al fatto che qualcun altro avrebbe vissuto lì, sapevo che avevo bisogno di allontanarmi da Jared. Lontano dai ricordi, dalla sua vecchia stanza di fronte alla mia, da un futuro pieno di lui che tornava in città senza preavviso e a suo piacimento. Quindi sì, il cambiamento era necessario. Un anno, quando ero piccola, avevo pianto perché mamma mi aveva obbligato a cedere alcuni dei miei giocattoli prima di Natale. Disse che avevo bisogno di fare spazio per le cose nuove che mi avrebbe portato Babbo Natale. Anche se non usavo più i vecchi giochi, mi sembrava che fossero delle persone. Da chi sarebbero finiti? Chi si ne sarebbe preso cura? Chi li avrebbe amati? Ma mamma disse che le cose sono difficili solo all'inizio. Più accetti il cambiamento, però più diventano facili. Ecco perché rimbiancava le stanze ogni due anni. Il cambiamento ci preparava alla perdita. Aveva ragione. Era diventato più facile. Dovevo cogliere la possibilità di una relazione con Ben o con qualcun altro e Jared poteva fare quel cavolo che voleva. Era così che dovevano essere le cose. Presi il telefono dalla tasca ed entrai in bagno digitando un messaggio con dita tremanti. Diglutai e lo inviai a Jared. Voglio che tu mi lasci in pace. Strinsi il telefono per circa due secondi prima di posarlo sul lavandino e spogliarmi. E per essere danatamente sicura su di lui, su una sua eventuale risposta e sul suo condenuto, mi spazzolai i capelli, indossai un paio di pantalocini del pigiama, bianchi e leggeri, una felpa aderente nere dei sitter e mi infilai a letto. Spegnendo la luce misi il telefono in carica e mi accolai sotto le coperte. Non sarei stata ad aspettare che mi rispondesse. Non sarei stata ad aspettare una sua reazione. Non sarei stata ad aspettare lui. Punto. Ecco, come vedete qua i due si sono, perché lui se n'è già andato, quindi giustamente stanno già vivendo un po' l'attività del tire molle, questa cosa, ma neanche troppo qua, però, vabbè, avete capito insomma il mio punto di vista. Ecco, la maglietta dei sitter è una citazione, perché comunque io vi consiglio di ascoltare la canzone Broken di Sitter, cantata con Emily de Evanescent, che è bellissima. La trovate sicuramente qua su YouTube. È stupenda, è veramente stupenda. È una canzone che si adatta perfettamente a questo romanzo. Infatti, quando lo lessi e è citata, appunto, anche questa canzone, la ascoltai in loop per settimana. Allora, vedete quando una canzone vi entra nella testa e non potete fare a meno, appunto, di continuare ad ascoltarla? Ecco, io ho vissuto quel periodo, appunto, anche con quella canzone e anche con tantissime altre. Però, appunto, vi consiglio di leggere, magari, mentre leggete questo romanzo. Che dire, io spero di avervi incuriosito. Come ho detto, non è un finale totalmente da buttare via, ma conoscendola Douglas poteva fare decisamente meglio. Bene, questa recensione si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo, come sempre, che in descrizione vi lascio il link di Amazon per l'acquisto del libro. Dovrebbe essere, dovreste comunque trovarlo abbastanza facilmente, anche perché non vi ho detto neanche quando è uscito. Questo libro è del 2016, quindi sì, dovreste ancora trovarlo, forse in edizione economica. Comunque, dovrebbe esserci i volumi unici anche della Penero Pedagras. Comunque, lo trovate sicuramente. Comunque, vi lascio il link per facilitarvi il lavoro. Troverete anche la pagina Facebook di Kelly d'Italia, della mia amica Carol, dedicata a The Walking Dead. Io sono ormai un ospite fissa nelle live, quindi stiamo facendo appunto le live settimanali. Infatti, domani, martedì, saremo in live per parlare dell'episodio 10x21, quindi se amate The Walking Dead, vi aspettiamo domani sera intanto alle 21, ma andateci e spaccatela di mi piace. Troverete anche il mio Instagram, il mio social più attivo. Se avete voglia di mettere qualche like alle mie foto, seguirmi e vedere le stories, se mi fate tanto contenta, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. Tenete sempre l'occhio l'attenzione community per tutte le attività del canale, per tutte le live del momento preimpostate il giorno prima, così non ve le perdete. Potete impostare pro memoria e non perdervele assolutamente. Scusate, se questo video, questa recensione vi è piaciuta, mettetemi un bel pollice in su e fatemi sapere nei commenti. Se invece a voi è piaciuto, cosa ne pensate, e se comunque questa recensione vi è piaciuta, fatemelo sapere in un commentino. Vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione, alla prossima reaction, al prossimo gameplay, alla prossima live. Ciao a tutti!